Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo primo episodio Della egglock a poche modo di avanti perla Ok c'è un retroscena per il quale stiamo ridendo come degli egglock Ma comunque qui con noi come avrete sicuramente sentito c'è Ciao a tutti ragazzi sono ti hai benvenuti in questa egglock Ok allora vediamo un attimo di ritrovare la compostezza Perché poi dopo vi racconteremo al massimo E praticamente c'è stato un aneddoto prima di registrare questo video particolare Comunque Allora siamo nella egglock ragazzi Adesso vi faccio vedere subito che abbiamo Abbiamo innanzitutto saltato tutta la parte Quella di Rowan e Gentaglia e varia Perché? Perché Tia? Perché era noiosa Esatto La cosa più brutta del mondo Abbiamo i nostri starter Sia Executor e Bidun Bidone per gli amici E nulla direi che possiamo subito andare a prendere le nostre uova Tia Ah dobbiamo spiegare del caramelle rare Ah giusto 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 Vai 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 spiega tu Allora praticamente abbiamo le caramelle rare dato che la egglock ci permette di livellare i pokemon tra tessi Senza starli a dover di livellare nelle uova Insieme le uova Nelle uova Vai a drogare l'uova con la siringa e il liquido di caramelle rare Ok Questa cosa ovviamente vale solo quando schiudiamo il pokemon Chiaramente chiaramente Allora vado a prendere un uovo a random Vado sul box 4 Ah ragazzi Allora non potete mandarmi B-Sharp Se sono in quarta gen Perché Perché non me lo legge Quindi come potete vedere Tia ha tipo 5 box pieni Io neanche 4 Quindi Monkey Già è vero perché C'è i programmi con i tumori Però Ok tra l'altro non vedete la facecam Novità del canale Non so quanto positiva però vabbè Ok io ho preso il mio uovo Tia nel frattempo Ok va anche Allora vediamo se è un uovo a posto Perché tipo ci sono delle uova che non si schiudono mai C'è un uovo da me che ho provato a schiuderlo fuori parte E è inschiudibile Perché dice che ci metterà Peccato mi signo Ok perfetto Tra l'altro si ci sono stati alcuni problemi con le uova ragazzi Alcune non riuscivo a inserirle nel coso Però vabbè più o meno tutte sono entrate Comunque tutti almeno un uovo ce l'avete all'interno del gioco Se non di più Ok mi si sta schiudendo Tia A me no C'è dentro Gesù da quando ci sta mettendo Eh il mio che si è schiudo subito mi preoccupa Eh No 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 Spinda shiny Spinda già lì no Tutto tuo Dai Questo questo lo chiamo Questo lo chiamo rocette Questo lo chiamo Si sta schiudendo anche il mio Vai Attenzione eccolo Mi sento mi signo un altro C'è un altro mi signo Lucario Lucario Eh spin Spinda dai ma si può Lucario Allora aspettate Eh busto Spinda con le caramelle rare Almeno quello Minchia se se le modozzi Se le mosse Io adesso c'ho paura Guardare le mosse Di sto con il nome di Lucario Come cacchio lo chiamogli Lucario Ehm Aura Vado sul Eh maschio È maschio Ok sto per vedere le mosse di spinda Eh vado su Aura Oddio Oh Gesù Sì Vuoto tetro Idrondata Ero assalto Sberle tesi Cos'è Cos'è È lo spinda più sbagliato di sempre Mamma mia Ro c'è tio e te conquisteremo il mondo Eh io l'ho chiamato Aura Ok perfetto Io vado a liberare lo starter raga Ossia Bidun Perfetto L'ignoranza di sto pokemon non è uguali E volevo dire un'altra cosa Sì ragazzi Ovviamente non è soul link È semplicemente versus Quindi Cioè se muore il pokemon a tia sti cazzi Ah Oddio È mostruoso Vai Spara Il pokerus Spare un flash Chi al po' il pokerus Non si può sentire Però Strumento Vodka Allora Cannon flash forza sfera Oscuro Oscuro Tuffo Beh Di chi è che era oscuro Tuffo Giratina Giratina E terremoto Ok io sono Decisa Zì io sono sul 201 Raga abbiamo già le pokeball Quindi potenzialmente Li vediamo lucario Prima Ho già fatto Io ce l'ho già al 7 Il mio Il mio Rocio Io sono indietro Ok io inizio a farla caccia Ci provo più che altro a farla cattura Perché con sto pokemon qua Dai raga si può Allora io so che mi avete mandato bei pokemon Sono riuscito a beccare spin da shiny Questo è uno scandalo Già tu l'hai liberato direttamente L'hai depositato Ah l'ho liberato tantissimo Chi cazzo vuole Bidun Bidun Ok mi sono trovato davanti un Un fortress Che se hai svegliato mi ha fatto tripletta Grazie esistenza Dai dormi stronzo No Se vedete che ogni tanto io salvo È perché Devo pippare subito Non è successo Ho bestignato male Ah non ho sentito Ma l'hai gatto È peccato L'hai morto? No 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 Ma C'è fuori tres che mi stare riempiendo di botte Sto cercando di catturarlo Ok l'ho preso Perfetto Ce l'ho Tant'è sicuro Con la sfiga che ho Becco crobat Nel primo percorso Oddio Sono venuto fuori da una crisi L'ho che non mi ricordo più i tipi dei miei Dei pokemon normali Ok Allora aspetta che io lo livello E vado a catturare Allora io vado prima dalla madre direi E poi dopo appena tornati dalla madre Direi che Schiudiamo un altro uovo Sì sì Perfetto Allora Adesso parliamo con the mother Adesso mia madre mi vede con uno spin Fa figlio che fallimento che sei Che bello averti a casa creepy Stai bene La tua squadra di pokemon Mi chiede una meraviglia La mia squadra di pokemon Perché non ho visto una roba migliore Che succede di tia Cosa stai Aspetta Aspetta Ma ora vuole imparare 20 spazi Ma da solo Sì Aspetta Ricordami le mosse Allora Cannon flash Forza spero Dai mi si Mi si blocca la rom Senza motivo Ok Perfetto Scarsino Scarsino Comunque come pokemon E non vorrevo Cosa cancelli Cannon flash Eh si per forza Cosa cancelli terremoto No si Ok perfetto Allora ho parlato con mia madre Cioè parlate un parolone Non ho fatto scorrere i dialoghi Ok io sto tornando verso Sabbia fine Io sto andando a cattura Che comunque sabbia fine Cioè è fine nonostante sia l'inizio dell'avventura No Ok Ok Bippa Vietato Vietato a un pubblico Facilmente impressionabile Tra l'altro E' però aspetta Io ho un piccolo problema Con sto lucario E lo shot No è balto E lo shot E lanciagli le poche Buola cazzo Dai Prega Prega Non lo so Fai qualcosa No Tra l'altro Zima C'è Il mio Spinda Non è shiny C'è Era shiny Nell'inquadratura Nel gioco Non è shiny C'è il mio Spinda Il mio Spinda Quando è uscito All'uomo Era shiny Adesso non è più shiny Ok Grazie E anche il clickbait Sulla shiny Riesco Vado dalla mamma Noti Cosa Il falso shiny Eh Vai 10.000 Viso Le famo Ok Allora Volendo c'è un altro uovo Da schiudere Io E volendo Potremmo schiudere Un altro Perché c'è la cattura sopra Eh sì Un attimo Sto andando a parlare Con Ah Perché ragazzi Purtroppo È ritardato Ci metto un pochino Peccato Succede C'è un emulatore storto Perché Tutti Le hub Le hub Con la neoplasia Al cervello Ma tutte Io l'ho preso Voglio dire Ok Nel frattempo Io mi faccio Un po' Mi faccio Di pozioni Perfetto Ah Ovviamente Io Potrei fare il furbo E vendere delle caramelle Lare Però no Dai Non faccio Non faccio Il tumore Preferiva davanti così Dai E invece Il prossimo episodio Due caramelle rare 30 ricariche totali Ok Io nel frattempo Ti vado a prendere L'uovo E aspetto te Per schiuderlo Perché a suo giro Lo schiudi prima tu Iniziamo a liberare Forre Sto correndo Corri piccolo Corri Ecco Quell'emulatore lì Più zopo Che altro Quando velocizo Sembra che sta laggando Ok Questo zilo Prendo veramente a caso Cioè vado Ok Perfetto Continuo Continuo a avere Gli occhi chiusi Raga Cioè fidatevi di me Ho preso quello Esattamente sopra Spinda Io ho paura Ma hai presente Che Cioè nel senso Io non sto livellando Lucario per ora Sto schippando le lotte Ma si anch'io Io c'ero a livello 7 Ancora rocet Ok Ok ci sono sabbia fine Adesso prima di prendere L'uovo Rega Io salvo Perché non vorrei mai Che questo animatore Mi morisse Ottima Ottima idea Ottima idea Mi piace No aspetta Però salvo con save state Mi faccio furbo Eh no Io sto salvando così Tanto No perché dovete sapere Che questo animatore Ogni tanto crascia Ogni tanto diventa nero Quando si schiudono le uova Poi partono i porconi Io devo bippare Ok Vai quando vuoi Però iniziare a schiudere Ti sto ritirando Aspetta che sto Occhi chiusi Allora Se viene fuori Un altro po' Sono in uno slato vuoto Grande così Prendo quello di fianco Raga Se viene fuori Un pokemon di merda Vi giuro sul dio Che io Bestemmio San Gennaro Ok San Gennaro Ok vai Sto correndo Vai anch'io sto correndo Verso la libertà Verso uova Sto dicendo che già Ci sta mettendo tantino Dai vediamo di non fare Una frittata Mi ci sta mettendo tanto Non l'hai capita Sì no l'ho capita E ho voluto Spassare sopra Ok oddio Anche il mio ci sta mettendo Quaranta Ok si sta schiudendo Tu cosa Non ancora Controlla l'uovo Perché ce ne sono alcuni Che sono taroghi Spera c'ho altri Dieci passi E poi nel dubbio Controllo Controllo Cosa dice Info Si Si sente Anche a me si sta schiudendo Oh oddio Garchomp Garchomp L'ho preso col verso L'ho preso col verso Non ci credo Si sta schiudendo anche il mio Si sta schiudendo Sento la potenza Cos'è? Sento la potenza Absol Ah beh buono 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 Onesto Garchomp Come lo posso chiamare? E io come chiacchio Chiamo un Absol Absol lo puoi chiamare tipo Tipo No se mi ricordassi Il nome di quella dell'anime Ma tipo Aquacalist Una roba del genere Perché lui è poco Uno sventura Ma Garchomp Lo chiamo Come si chiama la tipa nell'anime Con la capsule Eh sì sì certo Mi ricordo sicuro Guarda Internet Vieni a me Come lo chiamo Yogarchomp Lo chiamo Allora visto che tipo C'è quelle robe da sottomarino Lo chiamo Non lo so Lo chiamo Normandia Non lo so Lo chiamo Astrid si chiama Eccola Allora il mio lo chiamo Tanta femmina pure Lo chiamo Buono soprannome Basic Basic Chiamiamolo Rage Aspetta tu i soprannome li stai mettendo in minuscolo maiuscolo Prima lettera maiuscola Poi minuscolo Mamma mia Che grand'uomo Ok Ho catturato Cioè ho ottenuto rage Io gli posso dare un livello solo perché forre 3 sarà il livello fottuto 2 Poi ho chiamato Astrid e Astrid c'è E io qua un altro save state nel 2 Nel caso vai save state sul 2 anch'io No ma se non vorrei mai che crashare Save state insincro Ok c'ho un Garchomp a livello 2 Cose normali Dirami pugno Faccio il canone Abisso Frago il tempo Abisso colpirà Ma mai Che poche non ci hanno dato comunque in tutto questo Ma è uno spin da shiny Poi adesso non lo so Spin da shiny? Che non è shiny Spettacolo Ok aspetta Mi sai dire il timer che io non riesco vederlo? 12 Ok perfetto Allora Oh sai cosa ti dico? Che concludiamo qua Nel prossimo episodio Andiamo anche al percorso di sopra Come primo episodio Direi che 12 minuti Io ne so Ok Perché Cosa che succede? Le mosse di Abso Notte spezza Eh Una mossa che non è esistente Nel mondo In che senso non è esistente? Non c'è È di tipo normale A 15 pp su 0 Sì Ah ok aspetta 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 Te lo dico Questo qua è un altro furbone che ci ha messo la mossa di quinta gen Ottimo Privazione in seguimento Ok È l'abso il più sbagato di seguo Poi adesso stoppiamo Fuori parte Voglio vedere che cosa succede se Utilizzi quella mossa Oddio No facciamoglielo vedere Ok fai un save state prima Ok raga adesso vedrete che cosa succede con la mossa fantasma Vado Vai 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 Scusate che lo metto prima in squadra Oddio Sai cosa mi sono ricordato? Ah no ma magari non al livello Ah vabbè se mi muore non lo contiamo adesso raga No perché Giustamente Mi sono ricordato che giù da sabbia fine c'è uno strumento che sono random Fossi fossi l'unghia C'è Davvero Ok aspetta Fossi l'unghia tra l'altro cos'è Quel tumore Quel tumore di Anoritz Sì per forza Vai facci sapere Ti ha Se sto livellando un secondo Ok Raga veramente Voi ci faccio Ci avete mandato le robe che Lancio 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 la sospanso Vado a prendere lo strumento Prima Mamma mia che qualità questo youtube Ok Nel frattempo vado a tipo Mi butto timidamente nell'erba con il mio rage A livello 2 Ma perché sarà il livello 2? E perché il mio fuore 3 sarà il livello 2 Oh Cristi l'ho portato al 7 Vabbè Ma no Non mi ricordavo questa regola Ops Vabbè raga al massimo dopo vediamo di resettare il save state E io lo facciamo rimettere a livello 2 Sto coglione Io sto allenando un attimo e poco Così adesso raga vi facciamo vedere sta stronzata Allucinante Vediamo se fra quel tempo manda giù Whipping ball Non manda giù Whipping ball Astrid mi morirà subito Comunque Evviva No 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 Non posso usarlo Cosa è successo? Alla schermata delle mosse bugata Hai un save state tu vero? Sì ce l'ho Ok Però no il problema è che è bugata Ah non riesce a usare quel pokemon No posso usare le mosse però vedo una schermata ambigua Ok Perfetto raga Fantastico Si attacca pure Ok è funzionante Diciamo che è un po' difettoso Però è funzionante E vabbè ma ne conviene cambiarlo Se no gli viene il tumore Agli occhi Vabbè ma si tu chiedi lo fa Rende da quel pizzico di ignoranza alla serie Come se non ci fosse Vabbè adesso Niente Comunque ragazzi Il primo episodio è stato un parto Letteralmente Tra pochi non buggati Spinda Cose bruttissime Comunque noi speriamo che questo primo video vi sia piaciuto Se così vi invitiamo a lasciare un bel mi piace Quanti like chiediamo per il primo episodio Eh 350 350 Raga lasciate nel 500 Così Vai Raga Tia non ha voce in capitolo in questa serie E nulla iscrivetevi mi raccomando anche al canale di Tia Perché vi ricordo che i video saranno anche sul suo canale Faremo un episodio sì o un episodio no Quindi io farò il primo il terzo Lui il secondo e il quarto per intenderci Che altro La campanella fondamentale ragazzi Cult di ogni serie Anche quella di Tia premete Che Tia non mette l'intro della campanella Quindi a lui non premono la campanella E nulla Che altro Passate dal gruppo Telegram Che ci siamo entrambi Per poterci sfottere Per poter sfottere me Su Spinda E noi ci becchiamo ragazzi In un prossimo video Ciao ragazzi E noi ci becchiamo ragazzi